Un caloroso benvenuto da uno spettinatissimo Manuel, questo è il primo video di Cosa c'è nei nostri liquidi? Una guida in tre puntate che spiegherà vita, morte e miracoli dei liquidi fai da te. Ma prima, sigla. Prima di iniziare a fare i nostri liquidi dobbiamo partire dalle basi, letteralmente, partiremo dalle basi neutre. Da cosa è composta una base neutra? Generalmente le basi neutre sono composte da quattro cose, ovvero il glicole propilenico, il glicerolo vegetale o glicerina vegetale, vedete voi come chiamarla, il booster di nicotina, quindi le basette che trovate già pronte con la nicotina più la base desiderata, quindi 50-50, 80-20 e così via, e un aroma, un aroma qualsiasi deve piacere a voi e non a me. La composizione di una base neutra, in generale più o meno, è glicole propilenico, glicerolo vegetale più nicotina e acqua facoltativa. Perché acqua facoltativa? Perché la cosiddetta base classica è fatta da 50% di glicole propilenico, 40% di glicerolo vegetale e 10% di acqua. L'acqua cosa fa? Rende innanzitutto più fluido il liquido che andremo ad usare, quindi ad esempio usato in un tank di guancia o un cartomizzatore, renderà più facile il pescaggio del liquido. inoltre abbassa notevolmente le temperature d'esercizio, quindi appunto abbassando le temperature il nostro vapore non sarà troppo caldo, il cotone non si brucerà e l'aroma non andrà a quel paese. Le combinazioni più usate di base sono appunto la 50-40-10, la 50-50 ovvero dove vediamo uguali quantità di glicole propilenico e glicerolo vegetale, la 70-30 dove 30 sta per il glicole propilenico, 70 per glicerolo vegetale, quindi la 70-30 diciamo è da flavor chasing, ovvero si avrà abbastanza vapore ma comunque si conserverà un aroma, intanto scusate ma la gente mi scrive mentre faccio il video, comunque sta dicendo 70-30 si avrà molto vapore, non nuvoloni della madonna, ma comunque ci saranno delle nuvolette di vapore e si conserva abbastanza l'aroma, quindi si usano appunto negli atomizzatori da flavor, ad esempio l'Adalir Wasp Nano, il Moradin se usate in tank e così via, questo comunque appunto conserverà molto l'aroma del liquido. in più c'è anche la più famosa, quella da flavor chasing, la 80-20, quella per dire che fa i nuvoloni, però non la consiglio a chi si fa i liquidi da solo perché le percentuali di aromatizzazione diventerebbero veramente altine, soprattutto per dei liquidi che magari vanno già aromatizzati al 10%, in 80-20 potremmo aver bisogno di un 15% ma addirittura un 20%. Una delle domande più frequenti su Facebook è quanta base devo utilizzare per avere tot milligrammi di nicotina? Io adesso qua vi ho fatto un piccolo remind delle proporzioni che si avranno una volta utilizzato il booster di nicotina. Ho fatto una similitudine con i liquidi pronti, quindi 60 ml totali, usando i booster più diffusi, ovvero quelli da 18 mg, perché lo potete trovare anche da 20, ma quelli da 18 sono leggermente più diffusi nei negozi. Per 60 ml a 3 mg di nicotina avremo bisogno di 50 ml di base neutra più un booster da 18 mg. Dividendosi, la nicotina diluendosi più che altro nella base arriverà ad avere il valore di 3 mg. Per 60 ml a 6 mg ci sarà un 40 ml di base più 2 booster, per 9 ci sarà un 30 più 3 booster. Comunque se vedete appunto nelle immagini, se volete fate anche gli screenshot così ce le avete. In più, in bonus, vi ho messo 1,5 mg perché è il mio obiettivo soprattutto per far fronte anche a questi tempi duri, dove per avere 1,5 mg serviranno 110 ml di base più un booster, che si arriverà a 120 ml di base nicotinata. Perché ho fatto così? Perché è più scomodo fare 60 ml in quanto servirebbero 55 ml di base più un mezzo booster e quindi ci sarebbe un casino più che altro per dividere appunto la boccetta. Questo, come ho detto, era il primo video di una trilogia di video. Nei prossimi episodi parlerò di aromi, come utilizzarli, in che percentuali, la differenza tra sintetici e organici e soprattutto nel terzo episodio vedremo come fare un liquido da zero, creando la base per poi andare all'aromatizzazione e infine alla maturazione del liquido. Da Manuel per oggi è tutto, questo era Vaping Bed.